... Ed eccoci nuovamente con Stefano Reali, questa sera con una nuova rappresentazione teatrale qui al Globe and Teatro di Roma. Il Globe Teatro. Teatro, vabbè parliamo in inglese. Allora, dopo lo splendido successo del precedente tuo lavoro, diciamo Amici per la pelle, questa sera un nuovo lavoro che tu hai già rappresentato qualche tempo fa a Roma, però ci sono delle variazioni mi sembra o no rispetto alla prima edizione? C'è solo una variazione del cast, c'è Agnese Fallongo al posto di Serena Jansiti perché Serena non poteva e basta, poi no, l'ospettacolo è più o meno lo stesso, ci sono un paio di canzoni, cose così, insomma, qualche aggiunta c'è. Allora, ultimamente sono un paio d'anni, se non erro, che tu ti dedichi più che altro al teatro, hai un po' lasciato da parte il cinema perché tu hai fatto tanti film, diciamo, specialmente per la televisione, per il piccolo schermo, no? Stai preparando qualche cosa di nuovo per la televisione oppure? Sto preparando una serie che è ambientata nel Cinquecento e che ha come contenuti lo stesso tipo di ambientazione di questo spettacolo, sì. Ok, allora non ti voglio disturbare perché sei pieno di impegni questa sera, perché è la prima, e ti mando, come al solito, merda, merda, merda. Grazie, mandami gente più che mandami merda. Adesso vado fuori e provvedo subito, grazie Stefano. Siamo ancora in cena domani, sabato e dopodomani, domenica. Arrivederci a tutti, buonasera. Un saluto dal porto Fernando e da Stefano Reali. Stefano Reali, ciao. Ciao.